Qua c'è un'esibizione sempre dei primi calci, il gruppo di mister Camillo, di Biase, con giocano parata del portiere, l'altra società con la maglietta giallorossa e il progetto sono giovani, una società del treglio, deve battere il calcio d'angolo, ragazzino, va mister Camillo, ne siete due, pallo rosso, su, guarda, guarda, giocala, eccolo, ne siete Buona Giuseppe, metti qua, centrale